Per noi la sfida demografica, la natalità, la sostenibilità economica che a questi fattori è connessa rappresentano una delle principali sfide. Banalmente perché noi non vogliamo accontentarci di gestire il presente, non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro. E questa è la materia principe attorno alla quale un Governo ha la responsabilità di garantire un futuro per la propria nazione. Lo ripendico con orgoglio, lo considero un cambio di passo fondamentale quello che questo Governo sta facendo, l'approccio con il quale questo Governo affronta queste tematiche rispetto al passato. Penso che fosse ora di avere un Governo abbastanza coraggioso da dedicarsi alla demografia e alla natalità come sfide prioritarie che devono essere ovviamente trasversali rispetto all'azione di tutto il Governo.